Avete letto bene? Ora due parole le voglio esprimere io. Mattarella è la costituzione italiana né più e ne meno quindi la si deve per forza forzatamente semplicemente mettere agli atti non che si debba interpretare come dice un di maio bimbo scemo sottolineo bimbo scemo sottosviluppato mentale sottolineo anche questo che il Mattarella non si deve preoccupare. Mattarella si preoccupa e come? E fa anche bene a preoccuparsi perché di fronte a queste idiozie tutte futuribili il capo politico del movimento Luigi Di Maio risponde in una nota del monitor del capo dello Stato questo debito sarà ripagato sarà futuro dalla maggior crescita una task force di mani di forbice si dedicherà a tagliare taglierà dal bilancio tutte le spese inutili riducendo il debito. E chi è che l'ha detto? Di Maio datti una regolata vai un po' a rifletizione la tenetta a me e ai vostri accordi. Stop!